Un viaggio all'insegna della pace e della riconciliazione. Dopo circa dieci ore di volo, Papa Francesco è atterrato all'aeroporto internazionale di Yangon, in Myanmar, dove lo attendevano le autorità e alcuni bambini in abiti tradizionali, in rappresentanza delle diverse etnie del paese. Primo pontefice a visitare la ex Birmania, Papa Bergoglio è stato accolto con canti e striscioni come missionario di pace e di amore. Durante il volo che lo ha condotto nel paese asiatico, come di consueto si è brevemente intrattenuto con i giornalisti presenti, ringraziandoli per il loro lavoro, che ha detto semina sempre tanto bene.